Sì, grazie Presidente. Io mi limito a intervenire sul punto della praticabilità dell'inserimento del cibo di qualità locale a geometri zero all'interno di questa mozione che è stato già configurato. Ma al contrario di quello che hanno detto altri consiglieri, per quanto ovviamente nell'ambito delle gare bisogna tenere conto della normativa europea, teniamo presente che fin dal 2001 la Commissione, con una sua comunicazione esplicativa, aveva previsto la possibilità dell'inserimento del, diciamo, del cosiddetto nozione verde all'interno degli appalti pubblici. Per cui è un concetto che è già presente, tra l'altro, in corso di evoluzione. Per quanto riguarda la nostra legislazione, è abbastanza chiara la legge 488 del 99,4 articolo 59, dove si prevede espressamente la necessità di promuovere all'interno delle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere i prodotti biologici tipici e tradizionali, nonché quelli dell'omonizzazione protetta. Prevedendo espressamente il superamento dell'offerta, diciamo, del prezzo più basso, sul presupposto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che va però configurata all'interno sia dell'elemento prezzo, sia dell'elemento qualità. Quindi, sostanzialmente è già una normativa che canonizza una sorta di eccezione a quello che è il prezzo, pure semplice, al netto ovviamente delle anomalie, ma sulla base di quelle che poi sono le offerte specifiche. Per cui io, se proprio dobbiamo fare delle modifiche, possiamo proprio inserire il concetto normativo, in modo che poi chi andrà a predisporre i bandi tenga ben presente. Tra l'altro, ho fatto un veloce verifica su internet, l'Anci del Friuli Vecciagiula ha espressamente indicato a tutte le amministrazioni un'applicazione pedissequa di questa normativa nell'ambito degli enti locali. per cui, diciamo, è già canonizzata. Ovviamente non può essere utilizzato come scamotage per stravolgere quelle che sono le offerte, ma dando dei criteri abbastanza rigorosi si può, chiaramente, arrivare a una buona specificazione di questo. Grazie. Grazie.